E' destinato a riconoscere le cose che sono rite, anche considerando una casa, una cosa eccezionale. Bene, eccoci qua. Stiamo guardando qui attualmente questa fantastica chitarra Levinson, sono le ultimissime produzioni che ci propone la Arcinota Casa Svizzera. Questa è una fantastica chitarra acustica, è una chitarra un po' particolare perché comunque riprende già un modello più noto prodotto da Gibson negli anni venti, quindi è una reinterpretazione di uno strumento molto prestigioso. E' impeccabile, i materiali sono di prima qualità, la costruzione è pressoché priva di difetti, perché vediamo la realizzazione anche del banico, fasce, fondo, il binding e anche l'interno della cassa è ammirevole. Che cos'è Mogano, Maurizio? Questa qui è una chitarra realizzata in legno solido completamente, quindi sia la tavola armonica, sia le fasce che il fondo, si tratta di una chitarra realizzata in legno massello. Tutto massello? Sì, e qui abbiamo l'utilizzo del modello. Anche il disegno è bello il modello. Sì, infatti vediamo che la fibra, la venatura è selezionatissima, è facilmente visibile, infatti la chitarra suonandola rispecchia perfettamente questo tipo di selezione dei materiali. Questa è una tavola e una rete, una rete. Questa è una rete massello, poi adesso qui diciamo la pregevolezza del legno è un po' mascherata anche dalla finitura in questo caso. Chi la distribuisce? Ah, questa sono preparato da questo punto di vista perché questo oggetto meraviglioso è distribuito da Frenexport SPA. E se volessi comprarla quanto mi costerebbe? Dunque, questa chitarra ha un ottimo prezzo perché il rapporto qualità-prezzo di questa chitarra è eccezionale. Infatti... 1000 euro? No, meno, meno. Questa al pubblico va dai 750-800 euro circa. Come subito al negozio. Fai benissimo, farei un ottimo fare. Ti ringrazio, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.